Li tenevano d'occhio da tempo, da quando uscivano dall'ex Serena, stazionavano ai giardinetti di Santa Margherita o di Porta Altinia, fino a quando rientravano nel centro di accoglienza profughi. Tre ventenni, tutti dal Gambia, che hanno pensato bene di ingannare il tempo in attesa dello status di rifugiato, spacciando droga. Pensavano di poter agire indisturbati, portandosi le dosi nelle mutande per poi consegnarli ai giovani e ai giovanissimi dell'attreviso bene e non solo. Li tenevano d'occhio, dicevamo, il gruppo di carabinieri in borghese che hanno in carico il controllo discreto dei migranti quando sono fuori dalla ex caserma. E nel momento dello scambio hanno fermato tutti, spacciatori e clienti. I primi hanno rimediato una denuncia in procura, ma nessun al momento decreto di espulsione, mentre i secondi sono stati segnalati alla prefettura e consegnati ai genitori. Con questo caso salgono a sette i richiedenti asilo alle Serena diventati spacciatori. Casugana conferma un ulteriore giro di vite sui controlli, ma contemporaneamente chiama in causa il prefetto Lega, che ha promesso una commissione anche a Treviso, promessa al momento non mantenuta. Si erano impegnati anche a Roma con accordi con la prefettura, è basilare, è fondamentale. Ci deve essere una commissione che lavora celermente proprio per riconoscere lo stato di rifugiato politico. Non possiamo pensare che si perda del tempo o si impieghi troppo tempo per questo tipo di riconoscimento, perché altrimenti davvero la situazione è esplosiva.